Allora Cane Yosha e Cane Barbone, oggi andiamo a fare un giretto a Milano Certo, noi abbiamo visto la piazza Duomo a Milano, Monumento Vittorio Emanuele Va bene, facciamo un giretto Yeeey, ok, prendiamo il treno Cane Yosha, noi abbiamo visto le colonne di San Lorenzo Certamente, perché ho camminato veloce per passare delle persone Certo, andiamo Bani, io che ho fatto di bene? Ahm, qui a vicino, tu hai un duomo Cane Barbone, abbiamo ordinato McDonald's e buon gelato e gusto Kinder bueno, Kinder buono Sì, buon gustaio Ok Abbiamo ripreso il treno per tornare a casa Ok, andiamo Bene, è una giornata molto bella Già E' al COVID No, 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 no Stormail Bene Cani, noi siamo andati a fare un giretto a Milano Certamente Certamente Allora Ti è piaciuto a fare un giro? Sì Mi è piaciuto molto Benissimo Odigna Prepariamo la pizza margherita Ok Vengo anch'io Cani Osp Mi sta venendo dei brufoli Mi sta venendo dei brufoli Ok Grazie Robillo Cross Eh Ah Chusi